Oh, guardalo, guardalo, dove sta andando? Sta andando da quella parte, da quella parte chi c'è? Non lo so chi c'è, guarda, guarda, perfetto, peccato, peccato, sì! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Roblox, ci troviamo nella modalità di Fortnite che è veramente fantastica, sono usciti tanti giornamenti bellissimi e quindi siamo oggi qui per fare una nuova fantastica partita. Ditevi nei commenti se vi piace questa modalità di Roblox, arriviamo a 3000 mi piace per un prossimo episodio, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e adesso cerchiamo di fare una partita bellissima. Stiamo atterrando qui il magazzino buffito, guardate la modalità quanta è diventata fluida, non me la ricordavo così fluida, sapete? Uh, abbiamo trovato già tante munizioni, perfetto, uh, un fucile, un fucile, perfetto, abbiamo già un bel fucile, guarda qua quanta è diventata fluida la modalità, però quello lì si è trasportato come Goku. Guardalo, guardalo, cosa sta facendo? Ma sta laggando tantissimo sbaglio, oh, qui c'è anche un tesoro, non l'ho aperto, perfetto, apriamo subito il tesoro, mi sa che la modalità all'inizio sta laggando un po' troppo, sta laggando un po' troppo la modalità. Va bene, va bene, cerchiamo di uccidere tutti quelli che riusciamo ad uccidere, dai, 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 che è morto, dai, che è morto, sì! Eh, 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 la nostra prima uccisione su Fortnite, su Roblox, su Fortnite, su Roblox, mamma mia, non ci sto capendo più niente con queste modalità, tutto è diventato Fortnite, è una cosa pazzesca! Cos'è questo? È un fucile di precisione, wow! Allora, abbiamo fatto solo un'uccisione, a quanto pare quell'altro deve essere scappato via, prendiamo questo bel fucile blu e continuiamo la nostra avventura. Questa è la prima partita che faccio dopo settimane che non gioco a questa modalità bellissima e quindi rimaniamo concentrati. Oh, ho trovato delle shield piccole, sono delle shield piccole queste? Sì, sono delle shield piccole, mamma mia! Se vi piace questa modalità lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. Un pompa, abbiamo trovato un pompa, che figata! Vedete, la modalità è fatta così bene che assomiglia proprio a Fortnite ed è migliorata tantissimo. Guardate, possiamo anche riordinare le armi, ma babbia, che bello! Che figata! Ok, adesso che abbiamo un pompa blu e abbiamo un fucile blu, possiamo già fare un bel po' di casino. Abbiamo anche un fucile di precisione e dobbiamo ricordarci che abbiamo anche qua le costruzioni. Comunque, qui di fianco a me c'è qualcuno, infatti ho sentito qualcuno che si stava, stava tipo sparando. Infatti, 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 si stanno sparando, si stanno sparando. Non so dove si stanno sparando, ma dobbiamo andare a vedere. Comunque, abbiamo la mappa, giusto, la mappa, siamo dentro la mappa, per fortuna. Allora, andiamo da questa parte perché sento della gente che si sta sparando. Sì, 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 sono da questa parte, sì, sono da questa parte. Non voglio luttare questa casa perché voglio uccidere quello, ok? Perfetto, spariamoli, spariamoli, spariamoli! Si sta bevendo la cosa! Si sta bevendo un shieldino, che piccolo! Si stava bevendo un shieldino, a quanto pare li stava sparando qualcuno, non ne ho idea. Comunque, ci prendiamo queste belle shield e stiamo attenti. Ah, è una shield media! È una grande shield media, perfetto! Ce la beviamo subito e stiamo attenti perché forse stava ammazzando qualcun altro, forse qualcuno li stava sparando, non ne ho idea. Comunque, prendiamo qua tutto il loot e cerchiamo di riprenderci qua l'assalto blu. Fantastico! L'assalto blu dovrebbe fare tanti tanti danni e infatti l'avevo quasi shottato, cioè l'avevo shottato. Allora, da quella parte stanno sparando. Teniamo il fucile di precisione. Se vedo qualcuno, provo a cecchinarlo subito. Abbiamo fatto tipo due uccisioni e siamo rimasti in 22. Se vi piace questa modalità e vorreste vedere altri video, scrivete nei commenti hashtag Roblox, così me lo fate capire. Così vi fate capire che vi sta piacendo questa modalità e vorreste vedere altre fantastiche, altre fantastici video. Allora, facciamo una cosa. Teniamo il pompa in mano, così se vedo qualcuno vicino, lo provo a shottare subito. Abbiamo un paio di bandage, però se trovo tipo un medikit è meglio. O se tipo trovo uno scar leggendario sarebbe meglio. Guarda qua, altre bandage, perfetto. Ok, ok, teniamo gli occhi aperti perché tanto che non gioco a questa modalità sono aggitatissimo. Aiuto! Facciamo una cosa, spacchiamo tutto, prendiamo anche un po' di materiali. Haha, prendiamo un po' di materiali. E poi sapete, possiamo anche costruire, fare i muri, eccetera, eccetera. Come potete vedere. Poi possiamo mettere anche le scale. Sì, possiamo mettere anche le scale. Guarda qua che bello. Muoviamoci, muoviamoci. Ci sono tante persone che si stanno ammazzando. Infatti, guardate quanti sono morti. Sono morti tantissimi. Comunque, se vi piace questa modalità e vorreste giocarci, ve la consiglio. Si chiama tipo Island Royale. E quindi è una modalità che potete giocare. Fra un po' uscirà la beta di questa modalità bellissima. E potrete giocarci gratis. Perché per adesso è pagamento. Ma dopo sarà gratis. Guarda quello. Guarda quello lì. C'è quello lì che vorrei tanto cecchinare. Ok? Perfetto. Dai, 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 dai. Oh no, è bravo. È bravo. Ha costruito. Avete visto? Io voglio andare a vedere da questa parte dov'è che si stanno sparando. Perché qua sento della gente che si sta sparando. Infatti, guardalo. Guardalo. Dai, ricarica. Ricarica. Dai, 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 dai. Oh no. È entrato da dentro. Oh, eccolo. Eccolo. Dai, dai. Spariamoli in testa. No. No. Non gli ho sparato in testa. Per peccato. No. Si è nascosto. E quello dall'altra parte cosa sta facendo? Non lo so. Sta lutando. Oh, eccolo. Dai, ricarica. Ricarica. Sì. Sì. No. È un colpo. Oh, è un bolt action. Spara un colpo alla volta. Ecco perché. Fantastico. Facciamo tutto il giro. Perché forse non c'è neanche visto. Facciamo tutto il giro. E cerchiamo di cecchinarlo. Anzi, se ci avviciniamo adesso. Possiamo tipo shottarlo dall'alto. Con un pompa e prenderli tutto il loot. Muoviamoci. Muoviamoci. Ma perché non corre? Perfetto. Adesso corre. Dai, dai, dai. Veloce, veloce. Eccolo. 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 Sì. Sì. Ucciso. Non si era accorto di niente. Era distratto. Si stava guardando da una parte. Dove stava guardando? Stava guardando da quella parte. Perché lì c'è uno. Ok. Ok. Spara, spara, spara. Mamma mia. L'avevo quasi ammazzato. Da quella parte non si sta avvicinando nessuno. Cosa? Vuole costruire come su Fortnite. Non ci posso credere. Oh, che cacchio. Guardalo. L'ho fatto cadere. L'ho fatto cadere. Dai, 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 dai. Dai. Dai, ricarica, ricarica. Ricarica, ricarica. Sì. Ucciso. Perfetto. Ucciso. Ucciso. Adesso cerchiamo. Vabbè, scusate, scusate. Sto un po' agitato. Cerchiamo di berci questa piccola shield. E stiamo attenti. Perché secondo me sta arrivando qualcun altro. Sta arrivando qualcun altro da quella parte? No, non sta arrivando nessun altro. Siamo rimasti in quattro. Perfetto, siamo rimasti in quattro. Prendiamo tutto questo bellute. Il bordo. Il bordo si sta avvicinando. Cacchio. Andiamo via. Abbiamo preso i medikit. Abbiamo preso i medikit. Non ci posso credere. È veramente divertente questa modalità. Veloce, veloce, veloce. Mamma mia. Abbiamo costruito le scale velocemente. Cioè, sono sorpreso. Perché è tanto tempo che non ci giocavo. E non era fatta così bene. Infatti avevo letto che i nuovi aggiornamenti avevano migliorato tantissimo la modalità. Ma non credevo così tanto. Comunque, questo qua è un fossile di precisione che spara un colpo alla volta. E infatti mi ha fregato all'inizio. Pensavo che non sparasse più perché era scarico. Invece, mamma mia. Dovete sempre ricaricare e mettere il colpo in canna. Perché se no dopo non funziona. È proprio come il cecchino di Fortnite. Infatti facciamo una scala qui sopra. E vabbè, ciao. L'ha fatta un po' strana la scala. Qua le scale ancora non so come si girano. Quindi cerco di costruirla come riesco. E saliamo qui. Ecco, ecco. Là c'è uno. L'avete visto? Là c'è uno. Oh. Guardalo, guardalo. Dove sta andando? Sta andando da quella parte. Da quella parte chi c'è? Non lo so chi c'è. Guarda, guarda. Perfetto. Peccato, peccato. Sì. Dobbiamo ricaricare. Eh, devo premere per ricaricare. Ok, non mi ha neanche visto. Guardate, guardate. Lo lasciamo. Aspettiamo che si curi. Guardalo. Non ha capito che sono qui. Ah, no. Cacchio. Si sta curando. Si sta curando quello. Si sta curando. Dai, dai, dai. Spara, 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 spara. Spara! Ma che cosa? Non si spacca la costruzione. Perché? Perché? Perché non si spacca la costruzione? Perché cosa sta facendo quello? Ha bugato tutto. Ha bugato tutto. Facciamo tutto il giro e vediamo un po' se possiamo cerchinarlo. Che sta facendo? Ma li stanno sparando e lui sta costruendo in continuazione o cosa? Perché non ho capito, sinceramente. Eccolo, eccolo. Eccolo. Eccolo, è qui. È da questa parte. Oh, mio Dio, sono spaventato. Sono spaventato. Oh, guardalo. Mi sta guardando da quella parte. Sta guardando là dietro. Eccolo. No! Ho sparato l'albero. Perché ho sparato l'albero? Stupido gioco schifoso. No, non sei più bellissimo. Fai schifo. Era uno shot bellissimo, avete visto? Però non mi sono, non mi sono fatto vedere. Cioè, sono rimasto troppo dietro l'albero. Per questo ho cecchinato l'albero invece di lui. Eh, vabbè, adesso mi avrà visto. Avrà visto sicuramente i piedi. Cosa? Sta scappando. Sta scappando. Guardalo, guardalo. Guardalo. No. Perfetto. Spariamoli, spariamoli. Spariamoli, spariamoli. Perché? Becchiamolo, becchiamolo. Perfetto, perfetto. Andiamo da questa parte. Andiamo da questa parte, sì. Andiamo a vedere che cosa vuole fare. Ricarichiamo il fucile per sicurezza che non si sa mai. Ma si è messo là dentro. Non ci credo. Spacca, spacca. Spacchiamo, spacchiamo il muro. Ma si può spaccare il muro? Ma perché non si spacca il muro? Ma lo costruisci in continuazione o lo spaglio? Là dietro ho sentito qualcuno che stava sparando. Eh, mi sa che sono qui vicini. Spariamo, spariamo. E vediamo se possiamo beccarlo. Eh, vabbè. Oh, guarda lì. Guarda lì. C'è uno. Oh, mio Dio. C'è uno che è andato da quella parte. Ok. Qui c'è qualcun altro. Oh, lo ha ucciso. È bravo questo. È bravissimo. Oh, mio Dio. Oh, cacchio. È bravo. Sono dentro. Non so se sono dentro. Ok, facciamo questo. Mettiamo qua delle costruzioni. Cerchiamo di fare delle doppie scale. Andiamo più in alto. Così abbiamo tipo il vantaggio. Dov'è? Oh, cacchio. Eccolo. 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 No, ha fatto come me prima. Oh, l'ho piccato. Oh, sì. A terra. A terra. Sì. Ha fatto come me, come ho fatto io sull'altro. Cioè, l'altro l'avevo ucciso in questo modo. Avevo aspettato che costruissi per poterlo buttare giù. E infatti ha funzionato. Comunque ha fatto anche lui questa cosa. E adesso l'abbiamo ucciso. Scusate se sto parlando malissimo oggi. Cioè, veramente. Io di solito parlo malissimo l'italiano. Però questa volta per oggi sto parlando peggio del solito. Sono accitato. Scusate. Cinque uccisioni. Oh, mio Dio. Ditevi nei commenti se vi piace questa modalità. Perché a me diverte tantissimo. È troppo, troppo divertente. Allora, ci curiamo ancora. Perché tanto non stringe per adesso il bordo. Non stringe. Perfetto. Quindi abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Anche se ci dobbiamo muovere. Perché fra un po' stringe veramente. Mini pozioni le teniamo. Sì, le teniamo. Ricarichiamo adesso tutte le nostre belle armi. E poi andiamo a scontrarci contro l'ultima persona ribasta. Cinque uccisioni. E questa è in assoluto la mia prima partita dopo settimane. Che figata. Stiamo attenti che quello potrebbe avere un cecchino. Mi potrebbe cecchinare. Veloce, veloce. Veloce. Dove ci trova? Dove ci trova? Appena lo vediamo lo costruiamo. Perché qua adesso bisogna costruire tantissimo. È proprio come su Fortnite. Se non costruisci ti ammazzano subito. No! Non posso farmi mangiare dal bordo. Non posso farmi mangiare dal bordo. Qua non vedo nessuno. Quindi qua non mi devo neanche guardare. Eccolo! Eccolo! Ok, peccato! 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 Sì! No, 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 no! Mi sta cecchinando bene. Mi sta cecchinando bene quello schifoso. Quello schifoso mi ha cecchinato bene. Cosa? Vuol venire? Vuol venire? Io mi curo. Io mi curo due secondi perché è bravo. Questo è bravo. Mi ha fregato. Mamma mia. Vai, 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 vai. Curati, curati. Perfetto. Adesso... Oh, è qui! È qui! È qui! Oddio! Sì! Vittoria reale! GG! È stata una battaglia pazzesca. È stata una partita epica. Se uccisioni mi sono divertito veramente tantissimo in questa modalità qua di Fortnite su Roblox. Spero che questo video vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 3.000 mi piace per un prossimo episodio. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Ciao!